Calcio di Lettanti, prima domenica della nuova stagione a ranghi completi. Tutte le squadre infatti scendono in campo per le gare di campionato, anche le formazioni di prima, seconda e terza categoria. Se in Serie D il Piacenza affronta la gara di Lecco senza tifosi, qualifica del campo lariano, ma con il morale a mille dopo la bella vittoria di domenica scorsa, anche il Pro vuole dare seguito alle imprese di Coppe Campionato a Budrio e Gozzano. Al Siboni arriva l'esperta e temibile Oginatese. In eccellenza riflettori puntati su Royal Fiore, chiamato al pronto riscatto dopo il disastroso esordio di sette giorni fa, quando al comunale di San Nicolò gli uomini di Rossini sono stati annientati dalla Bagnolese. L'assenza di Bomber Franchi in attacco è invece una brutta tegole in casa Fiorenzuola, e un avversario di spessore come la San Michelese, seconda squadra di Sassuolo, sarà un test assai probante per la formazione di Mantelli. In promozione i guai di formazione del Fontana Audax sono ormai una costante. Contro il Terme Monticelli al Soressi marcheranno visita dalla Giovanna e Valla, mentre in forte dubbio sono Bellingeri e dalla Valle. Turno che sulla carta si preannuncia piuttosto agevole per la Castellana, che farà visita alla calcio casalese. Al Via in campionato anche la prima categoria, sarà il corte calcio a tenere a battesimo la stagione della Bobbiese, che proprio ieri ha comunicato l'addio a mister Macellari. L'ex giocatore dell'Inter paga un precampionato disastroso. In panchina, nelle classiche vesti di traghettatore, il vice Tiziano Guagnini. Spica però la super sfida di Carpaneto, i super favoriti uomini di Paganini ospiteranno il temibilissimo Baby Brasil, mentre la Gazzanese, in attesa di una risposta da Bomber Modafferi, che potrebbe essere tesserato la prossima settimana per far coppia con Burgazzoli in attacco, parte alla volta di Bardi. Tutto il programma anche di seconda e terza categoria sul sito www.liberta.it